Si aprono le porte del carcere per due pregiudicati di particolare caratura criminale sui quali la polizia del commissariato di Vittoria ha adottato provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria perché possano espiare le pene residue alle quali sono stati condannati. Un altro pregiudicato viene condotto ai domiciliari. Sono condanne che giungono perché sono stati riconosciuti colpevoli in ogni grado di giudizio di gravi reati sui quali la polizia di stato aveva condotto lunghe e destenuanti indagini durate parecchi mesi. L'uomo ai domiciliari è Vincenzo Lomonaco, 65enne, condannato per abuso d'ufficio continuato in concorso, commesso dal 2015 al 2008 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre all'interdizione dei pubblici uffici per lo stesso tempo. Il Tribunale di Sorveglianza ha valutato negativamente la gravità del reato commesso e la gravità dei precedenti, associazione per delinquere e distorsioni, lesioni personali e porto illegale di arma, rissa, violenza carnale, e ratto al fine di libidine, spaccio di stupefacenti, furti e ricettazioni e ha disposto che spiasse la pena in regime di detenzione domiciliare perso la sua abitazione dove gli agenti lo hanno condotto. Torna invece in carcere Roberto Scollo, 48enne, che è stato riconosciuto colpevole quale autore di 10 furti aggravati continuati ed in concorso commessi nell'arco di un mese tra il 27 maggio e il 26 giugno 2013, scoperti dalla polizia nel corso delle indagini effettuate a quel tempo. In carcere anche il 46enne Angelo Di Gregorio, autore degli stessi reati commessi in concorso con Scollo, inoltre responsabile di rapina e lesioni personali commessi ai danni di una coppia di anziani sorpresi nel sonno all'interno della loro abitazione nelle campagne di Roccazzo a marzo del 2013. Di Gregorio va in carcere dove sconterà 4 anni di reclusione. Grazie a tutti.